Ben trovate e ben trovati. La risposta alla pandemia di Covid-19 ha rappresentato per l'Unione Europea un importante test di maturità, soprattutto in un anno cominciato nella notte fra il 31 gennaio e il primo febbraio con il recesso di uno Stato membro dall'Unione, che è passata così da 28 a 27 Stati membri. Stiamo naturalmente parlando della fuoriuscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Nelle settimane successive, quando i primi focolai sono esplosi in Europa, l'Unione Europea ha cominciato a prendere posizioni e a gestire l'emergenza, a svolgere il proprio ruolo nella gestione dell'emergenza del Covid-19. Lo ha fatto, lo si può dire con franchezza, con alcuni passi falsi iniziali, ma gradualmente mettendo in campo una serie di strumenti, tutto un arsenale, possiamo così dire, anche e soprattutto economico, a sostegno degli Stati membri e a sostegno delle società degli Stati membri e delle loro economie, che sono poi quelle che le maggiori vittime dei mesi di chiusura, di lockdown e di tutte le misure di sicurezza e di prevenzione che occorre prendere per far fronte alla pandemia. L'ordine pubblico e la sanità sono competenze degli Stati membri, non sono quindi in prima battuta competenze dell'Unione Europea, ma l'Unione ha da subito svolto il proprio ruolo nel coordinare una risposta uniforme degli Stati, soprattutto riguardo per esempio le restrizioni ai viaggi e le progressive riaperture che abbiamo visto quest'estate, e in particolare poi nel disegnare una strategia di risposta comune da un punto di vista economico a quelli che appunto, come dicevo prima, sono le conseguenze socio-economiche del Covid-19, dei contagi e della pandemia. Vediamo che questo è stato fatto in due, per così dire, segmenti. Il primo, misure immediate, misure che entrano in vigore immediatamente, quindi tra marzo e il primo giugno di quest'anno, e altre invece misure di medio termine e quindi di un respiro relativamente maggiore, che saranno invece in vigore dal primo gennaio 2021 fino idealmente a tutto il 2023. Tra le primissime, se non la primissima, misura annunciata, c'è quella non da Bruxelles ma da Francoforte della Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea che replica quanto annunciato ormai molti anni fa, otto anni fa, da Mario Draghi con il suo programma Draghi, con quello che i giornalisti chiamano bazooka, gli economisti quantitative easing e che di fatto è un programma straordinario di acquisto dei titoli di debito pubblico e privato da parte della BCE stessa, da parte della Banca Centrale Europea, ne ha annunciato quindi un nuovo programma straordinario di acquisto dei titoli del debito di 700 pari a 750 miliardi di euro. Nelle settimane successive andranno aggiunti a questi 750 ulteriori 600 miliardi di euro che quindi contribuiscono a portare la somma, la quota totale, a 1.350 miliardi di euro. Un'altra banca, un'altra istituzione europea questa volta è la Banca Europea per gli investimenti, la BEI, annuncia invece 200 miliardi di euro di prestiti per gli stati membri per misure a sostegno delle PMI, le piccole e medie imprese. Spostandoci invece a livello meno tecnocratico e più politico, altre misure decise dai leader europei portano il nome di MESS e SHORE. MESS, il meccanismo europeo di stabilità, non gode sempre di buona pubblicità in Italia, lo abbiamo conosciuto in occasione della crisi del debito in Grecia del 2014. Il meccanismo europeo di stabilità prevede oggi una linea di credito dedicata per far fronte all'emergenza Covid-19. La caratteristica fondamentale è che i prestiti a cui si può attingere dal MESS sono a tasso di interesse agevolato dello 0,1%. Ciascuno Stato membro può chiedere prestiti fino al 2% del proprio prodotto interno lordo, il proprio PIL. Dicevo di SHORE, in questo caso invece non abbiamo un acronimo in italiano, ma in italiano è stato tradotto come lo schema di sostegno alla occupazione. Uno schema di sostegno agli schemi di supporto dell'occupazione che esistono già negli Stati membri. In Italia è il caso della cassa integrazione, della cassa integrazione in deroga, che sono per l'appunto state particolarmente utilizzate per alleviare la pressione sulle imprese data dalle chiusure dovute alla pandemia. 100 miliardi di euro in questo caso di prestiti attraverso cui gli Stati membri possono appunto finanziare questi schemi interni di supporto all'occupazione, come dicevo in Italia, la CIG, la cassa integrazione. Arriviamo così a maggio-luglio. Lasciamo quindi il segmento relativo alla risposta immediata ai fondi che già adesso vengono impiegati, insieme per esempio a un nuovo stanziamento di fondi strutturali approvato da Consiglio e Parlamento, i due collegislatori dell'Unione Europea. Si conclude così questo pacchetto di misure e andiamo invece alle misure che sono ancora oggi in discussione, proprio in queste settimane, anzi riprendono i negoziati, e che dovranno invece essere in vigore dal primo gennaio 2021. Parliamo in particolare, e anche qui l'etichetta è in inglese e non italiano, di Next Generation EU, il Recovery Fund. Quello che è tradotto in italiano è il piano di rilancio, il piano per la ripresa post-Covid. si tratta di 750 miliardi di euro, come abbiamo appreso il 21 luglio al termine del Consiglio europeo che si è occupato proprio di negoziare il fondo per la ripresa, 750 miliardi di euro, di cui 360 come prestiti, quindi da restituire, e 390 come sussidi, come erogazioni, quindi diciamo a fondo perduto, purché vengano mantenute delle condizioni e vengano relative alla struttura macroeconomica del paese. Il fondo per la ripresa si colloca all'interno del bilancio europeo. Il bilancio europeo settennale 2021-2027 avrà infatti, per il periodo che va dal 2021 al 2023, un ulteriore stanziamento, sono appunto i 750 miliardi di euro che dicevo prima, dedicato unicamente alla ripresa. Gli Stati membri dovranno presentare, lo faranno appunto in queste settimane, dei piani nazionali di implementazione che dicano in dettaglio come intendono spendere i fondi di Next Generation EU, che dovrà essere valutato dalla Commissione europea, prima battuta, e approvato dal Consiglio dell'Unione, la riunione dei Ministri dell'Unione europea, a maggioranza qualificata. Laddove non si dovesse arrivare alla maggioranza qualificata, quindi laddove dovesse esserci una minoranza di blocco, questa darà la possibilità, la discussione di essere portata dal livello del Consiglio dell'Unione al livello del Consiglio europeo, invece il Summit dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione, l'organo politico, l'organo decisore politico, quello che informa la strategia politica dell'Unione stessa. Proprio in queste settimane il Parlamento europeo, che come avete visto non ho finora citato e menzionato, reclama anche per se stesso un ruolo nella gestione del Fondo per la Ripresa, anche perché il Parlamento europeo rappresenta non rappresenta i governi come invece le realtà Consiglio e Consiglio europeo che ho nominato finora, ma il mezzo miliardo di cittadini europei. Questo è un nodo politico ma anche istituzionale che soprattutto in questo momento di resa dei conti europea, in cui l'Unione europea deve dimostrare dal vero il proprio valore aggiunto, sarà interessante monitorare. Grazie